Ci sono varie platee di cittadini che sono in attesa di una sistemazione, ricordo per esempio le famiglie dell'ex distretto, della seconda traversa di via Sansevero oppure della emananda graduatoria per il diritto all'alloggio popolare che è in uscita, siamo alle ultime battute e lì ci saranno oltre 700 aspiranti aventi diritto, graduati in ordine di bisogno, bisogno proprio calcolato su una base di una tabella di priorità, per cui ci rendiamo conto che rimane un'emergenza e rimane un'emergenza a cui dobbiamo dare delle risposte gradualmente, siamo in contatto con la regione, siamo in contatto con Arca Capitanata, siamo in contatto con le nostre articolazioni dei servizi sociali e della tecnostruttura unità operativa competente, quindi stiamo veramente in un'analisi fattiva e credo che di qui a breve già si vedranno le prime consegne. Ci sono degli altri siti, li avete già mappati, che possono effettuare lo stesso iter amministrativo e burocratico? Senta, ci sono dei recuperi che dobbiamo fare da precedenti cantieri che sono già arrivati a buon fine e dobbiamo ricevere la parte che era riservata all'ente. Poi nel PNRR… Grazie, grazie alla sindaca. Sì, sì. Buongiorno a tutti, innanzitutto la grande notizia è che a fine anno partono i lavori per altri 50 si alloggi finanziati proprio col PNR che è del Pinqua, poi c'è un grande programma di recupero anche di proprietà immobiliari comunali per darle alla causa di questa esigenza che noi abbiamo, ma tutto questo vede in questi giorni, lo devo dire anche per ringraziarla, una iperaccelerazione da parte della nuova sindaca che nonostante i problemi che ha, o meglio i tempi a cui è costretta a aspettare, a attendere, per mettere in moto l'esecutivo, sta lavorando e io ne sono una cavia, mattina, pomeriggio e sera perché queste cose si attivino nel più breve tempo possibile indipendentemente da quando si siano state concepite o programmate. Quindi tra questi i 50 si alloggi, un'altra iniziativa che abbiamo di recupero sempre col PNR per l'ex circoscrizione CEP che sarà rifatta e modernata, efficientata energeticamente, i 10 alloggi in zona Biccari che sono di proprietà comunali già appaltati, la sindaca si trova a gestire un programma complesso perché diverse fonti finanziari, perché diversi tempi, a cui la commissione ha dato impulso e cui la sindaca ha voluto nell'immediato rendere esecutività come dimostra la giornata di oggi. Grazie a tutti!